Salve, buongiorno, sono Andrea Tamagnini di Crestron Italia, siamo qui allo stand della Crestron ISE 2012. Ci sono molte novità, sicuramente la più innovativa e la più rappresentativa è il nostro nuovo Capture HD. Capture HD è un metodo semplice, un sistema all in one per poter registrare una presentazione potendone incorporare semplicemente nel video audio, video, contenuti digitali e tutto questo con una macchina compatta basata appunto su un oggetto di una sola unità REC e gestibile direttamente dal relatore, quindi senza bisogno di un personale tecnico che lo supporti. Possiamo registrare chiaramente l'audio, eventualmente anche con i nostri nuovi microfoni free speech, registrare i contenuti provenienti da una telecamera, sia una telecamera a bassa media qualità e quindi in composito, sia una telecamera broadcast con qualità e quindi con connessione SDI. A questo possiamo aggiungere i contenuti provenienti da un personal computer, da un Mac tramite le connessioni RGBHV o HDMI e chiaramente possiamo anche rivedere live i contenuti tramite analoghe uscite. Il bello di questa macchina è la possibilità di poter registrare su memoria allo stato solido, quindi su scheda SD o una memoria su USB o eventualmente su un hard disk, quindi collegato in USB, i contenuti e direttamente veicolarli tramite l'uscita di rete direttamente verso la destinazione finale. In aggiunta, questa macchina è perfettamente integrabile con il nostro software di supervisione RoomView Fusion e quindi io posso assolutamente schedulare anche la registrazione a un orario prefissato, quindi io da RoomView posso decidere che la presentazione venga registrata direttamente all'ore 6 nella talaula. Per semplificare ancora di più la preparazione di questa registrazione ho anche la possibilità di comandi semplici di configurazione direttamente tramite un touchscreen, dove vado chiaramente a decidere in pochi semplici passi la registrazione e anche come eventualmente integrare i contenuti video all'interno della registrazione stessa potendo decidere la posizione e la disposizione delle finestre video e delle finestre dei contenuti. Tutto questo poi può essere chiaramente operato con un normale file gestibile da qualsiasi software di presentazione. L'uscita di questa macchina è chiaramente un Full HD, quindi un 1080p con streaming in H.264 audio anche semplicemente in formati trattabili da qualsiasi software di authoring. È una bellissima macchina, è una novità assoluta, è sicuramente il futuro della registrazione delle presentazioni in alta definizione. Altre novità da Crestron, quest'anno siamo lieti di annunciare un nuovo modello del nostro sistema digital media. Digital media è il nostro sistema di distribuzione di contenuti audio e video in alta definizione. è un prodotto unico sul mercato e ai prodotti già esistenti, quindi ai vari sistemi che permettono di veicolare 8, 16, 32 sorgenti fino a 32 zone audio e video in alta definizione, aggiungiamo un modello in particolare, il modello 64x64. Quindi posso distribuire fino a 64 sorgenti in alta definizione fino al 1080p come Blu-ray, telecamere HD, qualsiasi contenuto video e posso distribuire questi contenuti in 64 zone, zone che possono essere raggiunte tramite un normale cavo categoria 5 o categoria 6 per coprire distanze fino a 100 metri o distribuzione in fibra fino al chilometro e posso anche effettuare delle situazioni miste, quindi zone servite in fibra e zone servite in rame. Ecco, questa è la macchina con chiaramente alimentazione ridondata e quindi la possibilità di avere operatività H24 e la distribuzione in fibra in questo caso per 64 zone, potrebbe essere la soluzione per un grande edificio, per un centro commerciale, per una sala operativa. Non scordandoci che questo sistema digital media è anche applicabile a soluzioni residenziali. Qui abbiamo una classica 6x6, quindi magari i dispositivi che ognuno ha presente in casa, Blu-ray, PC, decoder satellitare e quant'altro, con distribuzione in rame in 6 zone dell'abitazione o di una piccola applicazione come un ufficio o quant'altro. E' sempre questo con una semplice connessione in rame. Lo stesso valga per l'analoga soluzione per piccoli ambienti, quindi un 6 sorgenti per 4 zone. Questo tutto a standard HDMI, quindi la possibilità di controllo in C e C, di gestione dei contenuti protetti, quindi la gestione veloce e stabile di tutti i contenuti in alta definizione.